Giada Zanola tornerà a Brescia per l'ultimo saluto. I funerali della 33enne, gettati dal cavalcavia di Vigonza e dal compagno Andrea Favero, saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Silvestro a Folzano, quartiere di Brescia, dove vivono il papà Gino e i due fratelli Federica e Daniel. La cerimonia si terrà nel più stretto riservo. I familiari, infatti, non hanno autorizzato l'ingresso delle telecamere in chiesa. Anche durante la fiaccolata a Vigonza per Giada, papà e i fratelli hanno evitato di rilasciare dichiarazioni e sono stati protetti dal sindaco Gian Maria Boscaro da telecamere flash. Alle esecui della giovane mamma potrebbero partecipare i genitori del compagno Andrea Favero, che si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Ieri Claudio, il padre del 38enne, durante il sopralluogo della polizia, ha detto che vorrebbe partecipare. Penso di sì, valuteremo. A Vigonza, domani, in occasione dei funerali a Brescia, ci sarà lutto cittadino. Con un'ordinanza, il sindaco Boscaro ha disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici comunali. La cittadinanza, le istituzioni e i titolari di attività commerciali potranno abbassare le serrande o partecipare al lutto nelle forme che riterranno opportune. Ieri, durante il sopralluogo nella casa di Via Prati a Vigonza, la scientifica e la squadra mobile hanno sequestrato PC portatili e molti reperti prelevati anche dall'auto della coppia.